Buongiorno, anche noi facciamo parte di questo progetto del creare un universo che comprende pianeti e satelliti. Questo universo comprende appunto dei pianeti di vario genere, come pianeti che riguardano la nostra vita comune, come il pianeta di internet, il pianeta della cultura, il pianeta dell'amicizia, della felicità. Infatti è molto bello perché unisce sia la materia della tecnologia che la materia dell'arte, perché comunque c'è una componente artistica e anche una riflessione interiore, perché uno si deve correre delle domande e poi deve trovare una risposta. Infatti soprattutto io mi sono accorto di essere molto fortunato perché non sapevo proprio che decidere fra la felicità, la natura, perché avendo un sacco di cose non si sa poi qual è la cosa che si preferisce. Tantissime appunto cose a disposizione, abbiamo lavorato in classe facendo appunto questi grafici, questi disegni su questo universo che riguarda noi. A me personalmente è piaciuto, ho trovato il mondo, il pianeta dell'internet e della cultura migliori per conto mio e ho aggiunto come satelliti di questo mondo, per esempio per la cultura, le lingue, perché le lingue sono importantissime per il nostro futuro e per l'internet, google e i nostri social network come instagram, whatsapp.